L'articolo 33 della Costituzione ci ricorda che l'arte e le scienze sono libere e libero proprio nell'insegnamento. Ancora una volta la Costituzione vuole ribadire la bellezza della cultura e lo fa proprio partendo dall'arte e della scienza e in modo particolare vuole tutelare quella che è la libertà espressiva e creativa degli scienziati, degli artisti del nostro Paese. Quindi è chiaro anche quel passaggio fondamentale di allontanamento rispetto a quello che era il vecchio regime. La Repubblica vuole rinascere partendo proprio dall'aspetto culturale, dall'arte, della scienza e deve fare in modo che i propri scienziati, i propri artisti siano liberi anche nella loro creatività. Soprattutto in questo periodo l'arte e la scienza però vivono un momento difficile. Pensiamo in modo particolare a quanto sta soffrendo il mondo dell'arte, il mondo del teatro, il mondo del cinema e quanti artisti non sono in grado di poter esprimere questa libertà. Quindi ancora una volta è necessario oggi un intervento che riporti di nuovo al centro all'aspetto culturale. Come anche il secondo comma dell'articolo 33 parla di scuole. In modo particolare stabilisce che lo Stato dà l'ordinamento generale della scuola ma poi la scuola è autonoma, la scuola deve essere libera anche qui nella sua espressione, nella sua creatività. Però ribadisce l'articolo 33 un concetto importante, un concetto fondamentale, ossia che la scuola deve essere aperta a tutti. Quindi non deve essere una scuola come era in passato della Costituzione, ossia una scuola di una classe sociale, una scuola di elite, una scuola riservata e destinata soltanto ai ricchi. Ma deve essere una scuola proprio che è aperta a tutti, a tutte le classi sociali perché rappresenta il nostro pilastro. Quindi vediamo anche le difficoltà che in questo tempo sta vivendo la scuola, l'arte, la scienza in generale. E la Costituzione è la strada, ci dà la strada per fare in modo che queste scienze, che l'arte, che la scuola diventano sempre più al centro e soprattutto diventano sempre più espressione di libertà, di creatività e di innovazione. Grazie.